Van Katsukov, un ragazzetto di nove anni, che da tre mesi stava a bottega del calzolaio a Jakin per imparare il mestiere, la notte di Natale non andò a dormire. Dopo aver atteso che i padroni e i lavoranti uscissero per andare in chiesa, tirò fuori dall'armadio del padrone la boccetta dell'inchiostro, una penna col pennino arrugginito e sistematosi davanti a un foglio tutto spiegazzato e cominciò a scrivere. Prima di tracciare la prima lettera si voltò alcune volte timoroso verso la porta e la finestra, guardò di traverso l'icona scura ai due lati della quale si allungavano i palchetti con le forme per le scarpe e tirò un sospiro. La carta stava su un panchetto e lui sarà messo in ginocchio davanti al panchetto. Caro nonnino, Costantin Macaric, scrisse, ti scrivo questa lettera, ti faccio tanti auguri per Natale e ti auguro ogni bene dal Signore Dio. Non ho più né il padre né la mammina, mi sei rimasto solo tu. Vanka volse gli occhi alla finestra buia sulla quale baluginava il riflesso della sua candeletta e si raffigurò vivamente il nonno Costantin Macaric che faceva il guardiano notturno presso i signori Zivarev. È un vecchietto sui 65 anni, piccolo, magrolino ma straordinariamente vivace e svelto, con un viso sempre sorridente e gli occhi da ubriaco. Di giorno dorme nella cucina della servitù o passa il tempo a scherzare con le cuoche. Di notte poi, ravvolto in una ampia pelliccia di montone, fa il giro della proprietà picchiando sulla sua placca. Dietro di lui, a testa bassa, camminano la vecchia castanca e il cagnolino Viun, così chiamato per il suo color nero e il suo corpo lungo come quello di una donnola. Questo Viun è straordinariamente rispettoso e cordiale. Si comporta con la stessa dolcezza con quelli di casa e con gli estranei, ma non gode di grande fiducia. Sotto tanta ossequiosità e umiltà si nasconde la più gesuitica malizia. Nessuno sa scegliere meglio di lui il momento giusto per avvicinarsi furtivamente e a zannarti una gamba, o per infilarsi nella dispensa o per rubare una gallina a un contadino. Più di una volta gli hanno rotto le zampe posteriori a forza di botte. Un paio di volte lo hanno appeso per la collottola. Non passa settimana che non lo frustino a morte, ma lui risorge sempre. Ora certamente il nonno sta vicino al portone, strizza gli occhi alle finestre rossovivo della chiesa del villaggio e scalpicciando per terra con gli stivali di feltro, scherza con le donne di servizio. Alla cintola tiene appesa la placca, batte le mani per scaldarsi, si rattrappisce tutto dal freddo e con la sua stridula risata da vecchietto va pizzicando ora la cameriera, ora la cuoca. Non volete annusare un po' di tabacco? Dice porgendo alle donne la sua tabacchiera. Le donne annusano il tabacco e starnutiscono. Il nonno è preso da un entusiasmo indescrivibile, scloscia in un'allegra risata e grida, staccalo, col gelo si è attaccato. Danno da fiutare il tabacco anche ai cani. Castanca starnutisce, scuote il muso e offesa si ritrae in disparte. Viun, invece per rispetto, non starnutisce e dimena la coda. E il tempo, intanto, è meraviglioso. L'aria è quieta, diafana e fresca. La notte è buia, ma si vede tutto il villaggio con i suoi tetti bianchi, le spirali di fumo che escono dai camini, gli alberi inargentati di brina, i monticelli di neve. Tutto il cielo è cosparso di stelle che ammiccano allegre e la via Lattea si disegna con tanta nettezza che pare l'abbiano lavata e strofinata con la neve per la festa. Panca sospirò, intinse la penna e continuò a scrivere. Ieri ho avuto una tirata di capelli. Il padrone mi ha traccinato per i capelli fino a fuori e mi ha strigliato col tiraforme, perché mentre cullavo il loro bambino, inavvertitamente avevo preso sonno. Domenica poi, la padrona mi ordinò di pulire una ringa, ma io cominciai dalla coda e lei prese la ringa e cominciò a sbattermela in faccia. I lavoranti si burlano di me, mi mandano alla betola a comprare la vodka, mi comandano di rubare i cetrioli dei padroni e il padrone mi picchia con tutto quello che gli capita sotto mano. E anche da mangiare non c'è proprio niente. La mattina mi danno del pane, a pranzo polenta e a sera di nuovo pane, e quanto al tè e alla zuppa di cavoli, quella roba lì se la pappano i padroni. E mi fanno dormire nell'ingresso, e quando il bambino loro piange, io non dormo più per niente, ed ondolo la culla. Caro nonnino, fammi questa carità, toglimi di qui e portami a casa, nel villaggio, io non ne posso proprio più. Te lo chiedo in ginocchio, e pregherò eternamente il Dio per te, ma portami via di qua, altrimenti ne morirò. Panca storse la bocca, si passò il suo pugno tutto nero sugli occhi e ruppe in un singhiozzo. Ti triterò sempre il tabacco, continuò, pregherò il Dio per te, e se non mi comportassi bene, tu dammele di santa ragione. E se credi che non potrai fare nessun lavoro, chiederò all'intendente che per amor di Cristo mi lasci pulire gli stivali, oppure andrò al posto di fedia come aiuto pastore. Nonnino caro, non ne posso più, non mi resta che morire. Volevo scappare al villaggio a piedi, ma non ho scarpe, e ho paura del gelo. Ma quando sarò grande, io per ricompensarti ti manterrò, e non permetterò a nessuno di maltrattarti, e quando morirai pregherò per la pace dell'anima tua, come prego per mamma Pelageia. Mosca sai, è una città grande, sono tutte case di signori, e ci sono molti cavalli, ma pecore nessuna, e i cani non sono cattivi. Qui i ragazzi non vanno in giro con la stella, e nel coro non ci prendono nessuno a cantare. Una volta ho visto nella vetrina di una bottega che gli ami li vendono direttamente con la lenza, e per ogni sorta di pesci, e sono molto cari. C'era perfino un amo che poteva sostenere un pesce siluro di un quindici chili. Ho visto anche delle botteghe dove c'erano fucili di ogni tipo, come quelli dei padroni, tanto che costavano almeno cento rubli l'uno. Nelle macellerie si trovano galli cedroni, le starne e le lepri, ma i venditori non dicono dov'è che li prendono. Caro nonnino, quando dai padroni faranno l'albero di Natale coi regalini, prendimi una nocce dorata e riponila nel bouletto verde. Chiedila alla signorina Olga Ignatevna e dille che è per Vanca. Vanca tirò un sospiro convulso e tornò a fissare la finestra. Ricordò che nel bosco a cercare l'albero di Natale per i padroni ci andava sempre il nonno e portava con sé il nipotino. Che ore felici erano quelle? Il nonno gemeva, il ghiaccio gemeva e a guardare loro gemeva anche Vanca. Prima di tagliare l'albero, di solito il nonno fumava la pipa, fiutava a lungo il tabacco e si burlava di vagnusca tutto in freddo lito. I giovani abeti, coperti di brina, stavano immobili, aspettando di vedere a chi di loro toccava morire. D'un tratto, sbucata da chissà dove, una lepre vola come una freccia sui cumuli di neve. Il nonno non può fare a meno di gridare «Prendila! Prendila! Ah, diavolo senza coda!» Tagliato l'albero, il nonno lo trascinava fino alla casa dei padroni e là si mettevano a decorarlo. Più di tutti si affaccendava la signorina Olga Ignatevna, la beniamina di Vanca. Quando era ancora viva Pelageia, la madre di Vanca, e stava dai padroni come chiameriera, Olga Ignatevna rimpinzava Vanca di dolci e per passatempo gli aveva insegnato a leggere, a scrivere e a contare fino a cento e perfino a ballare la quadriglia. Quando poi Pelageia morì, mandarono l'orfanello Vanca nella cucina della servitù, col nonno, e ti dia mosca dal calzolaio Agliachin. «Vieni, caro nonnino», continuò Vanca, «te ne prego in nome di Cristo nostro Signore. Portami via di qua. Abbi pietà di me, orfano infelice. Qui mi massacrano di botte. È una gran fame. La noia poi è indescrivibile. Ne piango sempre. L'altro giorno il padrone mi ha picchiato sulla testa con una forma da scarpa così forte che sono cascato in terra e a stento mi sono riavuto. La mia vita è rovinata, è peggio di quella di un cane. Salutami ancora, aliena, egori il guercio e il cocchiere e non dare a nessuno il mio organetto. Sono il tuo nipote Ivan Zhukov, caro nonnino. Prendi il treno e vieni». Vanca piegò in quattro il foglio scritto e lo mise in una busta, comprata il giorno prima per una copeca. Dopo averci pensato un attimo, intinse la penna e scrisse l'indirizzo «Al nonno, al villaggio». Poi si grattò la testa, ci pensò su e aggiunse «A Konstantin Makaric». Contento che nessuno gli avesse impedito di scrivere, infilò il berretto e senza neanche gettarsi sulle spalle la giacchetta di pelo, in maniche di camicia com'era, corse in strada. Certi commessi della macelleria che aveva interpellato il giorno prima gli avevano detto che le lettere si infilano nelle cassette postali e dalle cassette vengono poi portate per tutto il mondo sulle troiche della posta, guidate da postiglioni ubriachi e tutte squillanti di campanelli. Vanca corse fino alla prima cassetta postale e infilò la preziosa lettera nella fessura. Cullato da dolci speranze, un'ora dopo egli dormiva profondamente. Sognava una stufa. Su di essa stava seduto il nonno, coi piedi scalzi a penzoloni, e leggeva la lettera alle cuoche. Accanto alla stufa girava a viù, dimenando la coda.